Allora amici buonasera come state spero tutto bene facciamo questo nuovo video sul lavorare nella ristorazione all'estero video molto importante perché penso che su questo argomento qui c'è molta confusione quindi cerchiamo di snocciolare questo argomento e se siete degli expat o expat in erba futuri expat e volete andare all'estero a lavorare nella ristorazione questi sono punti che vi serviranno quindi guardate il video fino in fondo e ricordatevi di iscrivervi al canale di lasciare un like se vi piace il video e un commento ok allora iniziamo quindi moltissimi italiani migrano ogni anno chi per fare un'esperienza chi per breve tempo chi per lungo termine come me e in molti si buttano a fare nella ristorazione perché diciamo che noi italiani abbiamo un profilo che si adatta quindi ci piace il buon cibo ci piace mangiare ci piace il buon vino abbiamo delle eccellenze gastronomiche quindi ecco siamo percepiti all'estero come bravi cuochi bravi camerieri insieme ai francesi bravi conoscitori di vini di formaggi quindi ecco viene quasi naturale buttarsi su quel su quel settore ok adesso quali sono i problemi e quali sono i vantaggi allora ho preso degli appunti innanzitutto diciamo che buttarsi tutti su questo settore se non si ha competenze e diciamo vado a vado di a fare il cameriere e questa è una frase che si sente molto spesso allora mettiamo i puntini su dei quindi fare il cameriere cosa significa se voi andate all'estero senza lingua e anche se lavorate in un ristorante italiano avrete dei clienti di quel posto quindi se andate in olanda avete clienti olandesi e internazionali in irlanda avete clienti olandesi che parlano inglese e così via ok nel regno unito anche quindi che cosa succede se voi non parlate la lingua voi non potete fare il cameriere ok perché il cameriere è un lavoro molto inflazionale se dice il cameriere il cameriere fare il cameriere anche se è inflazionato non è un lavoro facile per fare il cameriere ci vogliono certe competenze bisogna sapere la lingua e parlarla bene bisogna conoscere una memoria bisogna saper vendere quindi saper vendere i vini più cari saper vendere i piatti più costosi saper organizzarsi per non mandare da cucina in panico come prendere gli ordini quando prendere gli ordini quanti ne prendere e così via va bene quindi non è che tutti possono fare il cameriere non è un lavoro semplice ok quindi è un lavoro serio numero uno quindi se voi dite vado all'estero a fare il cameriere significa poco ok non tutti lo possono fare andrete a fare il lavapiatti che purtroppo come il cameriere lavoro a minimo sindacale quindi anche se voi andate a fare il cameriere avrete una paga che sarà il minimo sindacale per esempio parlavo con alessandro dalla spagna l'altro giorno che in spagna il minimo sindacale 1100 quindi a fare il cameriere potete prendere 1200 massimo però il problema è questo innanzitutto le ore che fate sono molte ore quindi andrete a fare 12 ore al giorno se lavorate per italiani purtroppo a volte ci portiamo la nostra mentalità dello sfruttamento del lavoro anche all'estero non tutti sono così ci sono mosche bianche però ecco se lavorate in un ristorante italiano all'estero vi mettete in una posizione scomoda perché se non parlate la lingua in pratica date opportunità al vostro datore di sfruttarvi quindi di fare cose che si fanno in italia per esempio avere un salario meno del minimo sindacale a nero lavorare ore extra senza essere pagati non avere ferie non avere malattia e tutto e quando e chi più ne ha chi più ne metta ok quindi vi mettete in una posizione scomoda a lavorare per altri italiani ma anche se non lavorare per italiani avrete un contratto a regola anche all'estero il problema la paga allora se voi lavorate nella ristorazione almeno che voi non siete uno chef con tante competenze che lavora per un ristorante anche non stellato però molto buono la vostra paga non sarà una paga alta quindi molti di quelli che vengono qui in irlanda che vanno nel regno unito che vanno in germania e poi magari si lamentano perché dicono io non guadagno bene e perché fate lavori che non pagano bene la ristorazione purtroppo è un lavoro che non paga bene almeno per alcune eccezioni adesso non venite a dire mia io faccio il cameriere prendo i milioni allora ci sono alcuni casi particolari che però sono eccezioni che confermano la regola quindi voi lavorate in un ristorante molto buono prendete delle mance grosse che poi parleremo anche delle mance però prendete delle mance grosse fate gli chef in un ristorante specifico avete delle qualifiche tali che vi fanno che vi rendono molto diciamo appetibili come chef prendete bei soldi va bene però c'è un esercito di gente che prende il minimo sindacale quindi a fare il cameriere anche dopo vent'anni anche se diventate capo sala andrete a prendere poco più del minimo quindi in irlanda il minimo adesso è il 1800 a fare il cameriere o lavapiatti ripeto il cameriere è lavoro serio non potete fare neanche quello se non parlate inglese ma adesso non avete competenze però diciamo andate a fare il cameriere prenderete poco più del minimo al minimo 1.900 più le mance quanto 2.000 euro però è finita è questo quello che prenderete ragazzi non è che andate a prendere 4.000 euro e poi non c'è tanta possibilità di carriera almeno che non vi apriate voi un ristorante che comunque non farei mai perché lo lavoraccio e lavoro molto duro però almeno che voi non diventate imprenditori o prenditori almeno che non facciate i prenditori purtroppo è difficile avere un salario alto lavorando nella ristorazione i soldi sono altrove ok non siamo più negli anni 40 dove partivate con la valigia di cartone andavate a fare le pizze in america e vi diventavate milionari quei giorni lì sono passati questa cosa qui non è più vera il giorno d'oggi non esiste più quindi mettetelo bene in testa quindi stipendio non buono sfruttamento e poi c'è questa cosa delle mance dire sì io prendo il minimo sindacale però le mance le mance allora io ho lavorato in ristorazione non ho fatto il diciamo ho lavorato in questo ambito ho fatto il barista prendevo le mance ok quindi le nostre mance non venivano date a noi capito quindi il nostro datore ok prendeva le mance le metteva in una cassa comune e poi due volte all'anno facevamo una cena con tutto spesato vino a volontà cibo a volontà però ecco noi non prendevamo i soldi in tasca perché era una politica aziendale quindi a volte voi le mance neanche le vedete capito bisogna vedere dove che siete quindi ecco è importante è importante sapere questo ok quindi ristorazione io non voglio demonizzare le ristorazioni non voglio dire no non andate perché c'è gente che comunque ha le competenze gente che ha fatto l'alberghiero gente che ha lavorato in ristoranti di livello gente che fa sommelier quindi c'è gente che fa una professione seria però se voi non avete skill specifiche se non siete persone che servono comunque vi andate a mettere in una situazione spiacevole e anche se avete anni di esperienza comunque il salario più o meno è quello ripeto i soldi sono altrove non solo nella ristorazione è un buon punto di partenza quindi magari andate all'estero avete già fatto il cameriere parlate un po' di lingua del posto vi fate il vostro anno due anni tre anni come cameriere quattro anni come cameriere nel frattempo studiate qualcosa vi fate dei corsi vi specializzate prendete un diploma specifico diventate un elettricista studiate a diventare idraulico camionista lavori che vi pagano di più tecnico informatico cercate un posto dove potete avere una flessibilità quindi magari andate lavorate la mattina a solito del pomeriggio o viceversa lavorate la sera a solito del pomeriggio la mattina e così in pratica voi andate a fare un lavoro che vi pagherà il doppio ok non è che voi potete stare a fare quel lavoro lì a vita perché i soldi purtroppo non aumenteranno a meno che voi non cambiate settore perché i soldi sono dove in Irlanda i soldi sono in informatica i soldi sono in altri settori in medicina in contabilità in finanza quindi se voi lavorate per esempio ma anche in un hotel se voi fate receptionist se voi fate anche supervisore i soldi sono quelli quindi secondo me una cosa è avere un piano bisogna avere un piano di azione per essere competitivi per lavorare in un settore competitivo che vi faccia guadagnare molti soldi e se voi volete io posso aiutarvi come sapete io faccio consulenze quindi potete contattarmi al di me in descrizione e vi posso aiutare va bene? allora ragazzi buona serata grazie dell'ascolto mi raccomando iscriviti al canale lasciatemi un like e anche un commento che mi fa piacere che vi rispondo ok buona serata ciao a tutti